Buongiorno, buongiorno da Onda DG in primo piano questa volta l'emergenza abitativa con il contratto di quartiere, sono state pubblicate le graduatorie provvisorie ma in tanti esclusi per cui serve un altro bando. Facciamo il punto nel nostro servizio. 5 ammessi, 13 esclusi e sarà pubblicata sul sito istituzionale del comune di Sulmona la graduatoria provvisoria per l'assegnazione degli alloggi del contratto di quartiere ma il numero elevato di esclusioni rende necessario un nuovo bando. In tanti infatti hanno indicato un'ISE inferiore alla soglia fissata nell'avviso pubblico. Le graduatorie pubblicate fanno riferimento a un elenco riservato agli ammessi per i nuclei familiari per due o più persone, un altro fa riferimento agli esclusi dei nuclei familiari per due o più persone, uno agli ammessi single e uno agli esclusi della stessa categoria e questo è un altro buon risultato che questa amministrazione ha messo a segno. Mi sono occupata da subito del problema a casa e sono soddisfatta del lavoro che siamo riusciti a portare a termine. Avevamo premuto l'acceleratore con il bando lo scorso anno. Purtroppo la pandemia ha rallentato tutto, non consentendo soprattutto di effettuare le riunioni delle commissioni in presenza per vagliare carteggi. Presto riapriremo il bando per assegnare il resto degli appartamenti così da poter andare incontro alle esigenze di tutti, afferma l'assessore associale Marina Bianco. Proprio oggi i Comune Ater si sono incontrati per fare il punto sull'emergenza abitativa. E ora la cronaca che ci porta in alto sangro ai domiciliari Daine Scandescenza e minaccia i carabinieri tradotto in carcere un 28enne. Sentiamo i particolari al nostro servizio. Daine Scandescenza pur essendo ai domiciliari, per lui, giovane romano, è scattato l'arresto. Nella serata di ieri a Pescassero, i carabinieri della stazione, con il supporto delle pattuglie della stazione di Scanno e della liquida radiomobile della compagnia di Casteldisangro, hanno tratto in arresto un 28enne italiano originario della provincia di Roma per il reato di resistenza pubblico ufficiale. I militari, attivati dalla centrale operativa, sono intervenuti presso l'abitazione del giovane, dove lo stesso stava scontando un periodo di arresti domiciliari disposti da tribunale di Rieti. L'uomo, in evidente stato di alterazione psicofisica, non nuovo a ingiustificate esplosioni di violenza, urlava e proferiva minacce nei confronti dei militari intervenuti, accusati di tenerlo rinchiuso in casa ingiustamente e presentava diverse ferite lacero contuse, auto inflitte, sul braccio sinistro. All'arrivo del personale sanitario, opportunatamente allertato dei militari operanti, il 28enne avrebbe accentuato il suo stato d'ira, brandendo un macete con una lama di 30 centimetri, ha iniziato a aggredire verbalmente tutti i presenti, minacciandoli di morte qualora lo avessero ulteriormente avvicinato, generando con tale comportamento un forte allarme sociale nella popolazione locale, residente nelle immediate vicinanze. I militari operanti, dopo una lunga trattativa, fornendo prova di grande determinazione e professionalità, sono riusciti, con azione pronta e decisa, a immobilizzare il soggetto, sottoponendolo in prima istanza alle cure del caso. Su disposizione della Procura della Repubblica di Sulmona, il giovane è stato arrestato e, dopo le formalità di rito, associato presso la casa circondaliare di Campobasso, in attesa della celebrazione del rito per direttissima, che si svolgerà molto probabilmente nella giornata di domani. Torniamo a Sulmona perché si sente male in fabbrica, operaio della Magneti Marelli è stato trasportato questa mattina in ospedale. Sentiamo che cosa è successo nel nostro servizio. Prima si sarebbe ferito con un piccolo taglio dove avesse levato delle casse mentre stava lavorando sul muletto e poi, una volta recato sin bagno, avrebbe accusato un improvviso malore fino a battere la testa. Brutta risavventura per un 52enne residente in Marsica, operaio dello stabilimento Magneti Marelli di Sulmona, che questa mattina è stato trasportato d'urgenza in ospedale da un'ambulanza del 118, intervenuta sul posto per prestare le cure del caso. L'episodio si è verificato intorno alle 6.30, ma la dinamica dei fatti è ancora tutta. da ricostruire. L'operaio, dopo essersi sentito male, sarebbe riuscito ad allertare il suo caporeparto che a sua volta ha richiesto l'intervento del 118. Ai sanitari, malcapitato 52enne, riferito di essere stato colpito da un malore. L'uomo si trova ora in osservazione breve nel reparto Utic Cardiologia del nosocomio Peligno, dove viene monitorato per scongiurare eventuali conseguenze dall'episodio accidentale, che di certo non è passato inosservato. L'odore nausea a bondo nel quartiere dimenticato, con i residenti di via di Largo Mercatello che hanno chiamato. I carabinieri in una situazione tuonano dal quartiere ormai invivibile. Sentiamo meglio nel nostro servizio. La misura è colma. Il quartiere è diventato invivibile per quell'odore nausea a bondo. Per questo i residenti di Largo Mercatello, in pieno centro storico a Sulmona, hanno chiamato l'altro giorno i carabinieri per rappresentare un disagio che va avanti ormai da due lunghissimi anni senza soluzione alcuna. Si è trattato, d'onor del vero, di una telefonata interlocutoria che rende l'idea sul livello di sopportazione ormai saturo da parte degli abitanti della zona e degli esercenti. La storia è quella che abbiamo raccontato lo scorso 19 marzo. Il degrado ha trovato casa, nel vero senso della parola, in un'abitazione disabitata della zona, tra escrementi di animali e massiccia presenza di volatili. Esposti e segnalazioni a quanto pare non sono serviti per risolvere una problematica che riguarda non solo il decoro di un angolo del centro storico, ma anche la salute pubblica. Le vampate di prima mattina e non solo con la stagione calda rendono la vita un inferno in quel quartiere. Nelle scorse settimane il comune si sarebbe attivato per venire incontro alle esigenze degli operatori del commercio e dei residenti e sta lavorando per emettere un'ordinanza specifica, ma serve la certificazione dello stato di degrado da parte della ASL. Noi vogliamo solo che questo problema si risolva, perché non possiamo andare avanti così, tuonano da largo mercatello, sperando in una risoluzione della vicenda. In tempi brevi. Ora la pagina del commercio dell'economia con la succursale dell'Istituto Alberghiero di Roccaraso e la sede dell'Università di Teramo a Sulmona, il contenzioso ferma per il momento il progetto di Confesercenti. Il nostro servizio. Si sono svolti una serie di summit istituzionali per porre in essere un progetto di rilancio per l'intero territorio, fino a quando lo stesso è andato a finire sul tavolo della giunta comunale di Palazzo San Francesco, lì è stato respinto per il contenzioso in atto tra l'associazione e il comune per i locali dell'ex Cescot. Rischia di finire nel dimenticatoio l'iniziativa di Confesercenti che stava lavorando per portare in città una sede succursale dell'Istituto Alberghiero di Roccaraso e una serie di staccata della Facoltà di Scienze e Culture Gastronomiche dell'Università di Teramo. Alla base del progetto ci sono la valorizzazione del capitale umano, la rivitalizzazione della città in un sistema integrato dell'istruzione, della formazione professionale e del lavoro, spiega Confesercenti nella lettera di proposta, ricordando che la rete di partenariato a sostegno del progetto vede coinvolte oltre le istituzioni scolastiche anche le imprese del territorio e naturalmente l'amministrazione comunale. Per avviare in concreto il progetto sono stati individuati degli immobili in centro storico, Palazzo Megliorati e Palazzo Manara. La giunta però ha congelato il progetto per le vicende pregresse tra enti e associazione. Un grande progetto, un progetto importante che poteva rilanciare il centro storico di Sulmona e il suo patrimonio immobiliare. Questo progetto riguardava una sede universitaria. Purtroppo il progetto si è perso nei corridoi del Palazzo Mazzara. Speriamo che questa amministrazione, prima che ci saluti definitivamente, porti a compimento questo progetto per rilanciare il centro storico di Sulmona. Così tuona l'associazione di categoria, mentre il Comune conferma che la frenata è dovuta al contenzioso ancora in atto, inviate risoluzione, fermo restando la validità del progetto. Quello che è certo è che la programmazione universitaria ha i suoi tempi, per cui, almeno per il prossimo anno accademico, si tratta di un'occasione persa. A proposito di rilancio d'immagine, non è un'occasione persa quella di Sulmona e dei suoi confetti rinomati famosi in tutto il mondo che sono finiti ora sulla prestigiosa rivista del New York Times. Gli operai versavano acqua zuccherata sulle mandorle tostate e in bacinelle di rame rotanti. Li hanno fatti rotolare ipnoticamente in vaschette di cioccolato, hanno raccolto le confezioni sputate dalle macchine per l'imballaggio e hanno caricato le varietà bianche, blu, rosa e verdi sulle casse. Così il New York Times presenta i confetti di Sulmona che finiscono sulla prestigiosa rivista. Un racconto a 360 gradi sulle aziende sulmonisi, sulla preparazione del confetto sullo spaccato della quotidianità. Non manca un riferimento alla storia della città. In una mattinata recente, negozi di caramelle, lungo corso video, sono fioriti di coloratissimi bouquet di confezioni, avvolti in plastica colorata, legati insieme in modo che le mandorle assomigliassero ai petali di girasoli, margherite e crochi. I negozianti hanno riempito sacchetti di plastica trasparente con le tradizionali mandorle ricoperte di zucchero bianco per i matrimoni imminenti. Le future spose si preparano per la stagione decoriandoli, si legge in un passaggio dell'articolo, una vetrina importante per Sulmona e i suoi confetti dopo un anno di emergenza che ha colpito pure la filiera. Prima di chiudere il ragionamento sul fronte dell'emergenza da Covid-19, anche oggi buone notizie per il centro Abruzzo perché rimane vuota. Per il secondo giorno consecutivo la casella dei nuovi positivi. Non si registrano nuovi contagi, fermo restando però l'attenzione da mantenere alta per i fronti Covid che sono ancora in corso di monitoraggio soprattutto sul versante Pratolano. Si registrano invece delle problematiche, delle criticità per quanto riguarda la vaccinazione protetta. Noi ovviamente nelle prossime ore come di consueto avremo modo di aggiornare, elaborare i dati e di fare il punto della situazione. Prima di chiudere vi ricordo, anzi vi invito a visitare il nostro sito internet www.ondatv.tv per essere aggiornati su tutte le nostre notizie. Bene davvero tutto per questa edizione, grazie per aver scelto Onda di G che come di consueto torna questa sera alle 20 circa. Tutti buon pomeriggio.